Sono stato invitato da Daniela alla commissione di razionalizzazione della spesa, abbiamo potuto constatare un altro mese in caso di spreco, questo immobile enorme del comune che è stato utilizzato, che è stato occupato, che ci ha imporso il suo capione, non si sa pari locali, molto più dubbi, non si sa come dovrebbero andare a finire. Un primo spreco del comune di Roma nel mese di una mancata valorizzazione del patrimonio perché mentre il comune di Roma paga dei canoni di affitto molto elevati per alcuni immobili, allo stesso tempo negli immobili di proprietà del comune vengono letteralmente abbandonati. Questo immobile che abbiamo visitato è stato di abbandono dal 2011, quindi ovviamente più passa il tempo in queste condizioni più poi sarà difficile metterlo a nuovo, a regime e quindi poi la paura è che ci sia l'ennesima svendita del fatto immobile. Un gioiello, ricordiamolo, a 10 metri da via del corso, l'abbiamo visitato, abbandonato dal 2011. Nel 2011 l'amministrazione doveva assolutamente intervenire, valorizzarlo e oggi anche prima sarebbe stato pronto per essere utilizzato e risparmiare così milioni e milioni di euro ogni anno. Noi ci opporremo alla vendita di questo immobile per il quale deve invece l'amministrazione definire un serio piano di ristrutturazione.